Tragedia nei cieli della provincia di Arezzo. Ieri pomeriggio Enzo Acanti, 73 anni appassionato di volo di faella, è morto dopo essere precipitato con il suo aliante da un'altezza di circa 20-30 metri in località Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. Il dramma si è verificato poco dopo le 14, nelle fasi del decollo del velivolo, che non è riuscita a prendere quota ed è caduto. Un tragico destino, lo stesso, che torna a bussare a 10 anni di distanza. Nel 2009, infatti, il fratello di Enzo Roberto era morto a 70 anni, schiantandosi anche lui al suolo con un ultraleggero sempre nel retino. L'aliante è precipitato in un campo nei pressi dell'aviosuperficie di Antonello Budini-Gattai di Montecchio, da cui era partito. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che allora arrivano però potuto unicamente constatare il decesso dell'uomo, presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti sull'accaduto. La procura di Arezzo adesso ha aperto un'inchiesta sulla morte del 73enne. Nei prossimi giorni ci saranno altri approfondimenti, un sopralluogo dell'ente nazionale per l'aviazione civile e una perizia della procura per accertare eventuali responsabilità. Tutto in ordine sul fronte delle licenze, l'aliante cadutera di proprietà dello stesso Enzo Acanti.